Nicola Saviola, il valore del risultato ma anche della prestazione, sotto 1-0 la capacità di tenere botta nel primo tempo, abbiamo anche descritto con i tuoi compagni di squadra, ma poi nella ripresa è venuto fuori anche il valore tecnico della squadra. Sì, sì, era una partita molto difficile secondo me, forse il Cittadella era una squadra difficile da incontrare ma come lo sono le altre, però soprattutto qui in casa è una squadra fastidiosa e noi siamo scesi in campo colpiglio giusto, poi abbiamo subito gol e non è mai facile soprattutto in queste partite ribaltarla, però siamo stati bravissimi a ribaltarla, però ti ripeto è la prima di una lunga serie perché ancora c'è il ritorno, poi ci saranno altre partite se riusciamo a portare a casa il risultato. Non ne abbiamo parlato in precedenza, anche il VAR nel playoff di Serie B, come avete vissuto il match con questa nuova prospettiva? Noi non dobbiamo pensare a queste cose, anzi in modo molto tranquillo, loro decidono, loro guardano, noi siamo lì in attesa di giudizio, però è in modo molto sereno. Tanti dubbi ovviamente sul fallo che ha portato poi alla punizione e al vantaggio del Cittadella ma non è occasione da assistenza arbitrale al video. A voi per le domande. Ciao Nicolás, buonasera e complimenti per la vittoria. Quanto è stato difficile giocare per te nella prima frazione di gioco, marcatura asfissiante praticamente a Duomo, ti seguivano in tutte le zone del campo, si è andato vicino al gol, grande parata di Paleari, nella ripresa però complice anche all'espulsione di Proia ha avuto molto più libertà di manovra. Come è stato vivere quel primo tempo? Davvero venturato, sembrava aver preparato una gabbia su di te. Sì, mi lasciavano pochissimo spazio per giocare però comunque cercavo di rimanere in zona per far giocare gli altri miei compagni, anche quando io non gioco il mio compito è far giocare bene gli altri, quindi cercavo di muovermi per liberare gli altri. Credo che comunque nel primo tempo, anche se non l'ho toccata tantissimo, ci siamo mossi nel miglior dei modi e abbiamo creato tante occasioni. Ripeto, questa è una squadra che può solo migliorare, anche quando abbiamo la marcatura uomo io penso che siamo una squadra talmente importante che può uscirne fuori in qualsiasi modo, quindi c'è solo da stare sereni e tranquilli perché poi lo spazio nel secondo tempo c'è stato, me lo sono creato ed è andata per fortuna per il verso giusto. Billi Nuzzolillo. Ciao Nicolas, dicevo prima in studio qui che ho notato nel vostro volto post partita che c'è ancora, diciamo così, non vedo quei sorrisi che potrebbero magari essere naturali dopo una vittoria fuori casa che ipoteca la qualificazione, ma vedo ancora dei volti tirati, concentrati. Questo dimostra che praticamente voi state affrontate questi playoff con una carica e lo avete dimostrato anche in campo perché voglio dire, nonostante lo svantaggio, avete dimostrato appunto che siete diventati squadra, che avete una grossa forza mentale che forse era mancata in qualche parte del campionato e quindi credo che sia tutto un insieme di fattori che dimostrano la vostra grande voglia di voler conquistare l'obiettivo. Credo proprio che hai detto sicuramente cose vere. Io penso che sicuramente la tensione che c'è in questo momento è perché comunque siamo una squadra che oggi ha fatto una grandissima partita in un campo difficilissimo, questo non lo dimentichiamo e l'entusiasmo è alle stelle, però ha la consapevolezza che non è finita e che per essere più forti bisogna dimostrarlo nel campo. Adesso c'è una partita sabato che ci aspetta e io penso che siamo concentrati per quella partita quindi è una cosa molto positiva questa, la consapevolezza di andare avanti, di giocare per vincere.